Comune di Sarano al lavoro per cercare di trovare una soluzione alla querelle del campetto di Santi Ostachio in piazza dei Filadelfi, al centro di un braccio di ferro tra la Chiesa Evangelica della Riconciliazione che reclama l'area per costruirci un luogo di culto e gli abitanti del quartiere ai quali la struttura era stata affidata soltanto pochi mesi fa. Domenica 29 marzo, infatti, l'amministrazione aveva consegnato il campetto ad un'associazione della zona per la vigilanza e la manutenzione quotidiana dopo una serie di lavori di riqualificazione. In quell'occasione erano state rifatte recensioni, porte, il manto di gioco, un campetto da tempo atteso dagli abitanti che per anni si erano lamentati del degrado nel quale versava la struttura. Una gioia durata però soltanto pochi mesi. Qualche giorno fa, infatti, come testimoniato dalle telecamere di Telecolore, si erano presentate delle ruspe per l'avvio di lavori per costruire una chiesa. Tanto è bastato per far scattare la protesta popolare. Alla base di tutto una convenzione del 2012 tra la Chiesa Cristiana Evangelica e l'amministrazione comunale del capoluogo con tanto di permesso a costruire è già rilasciato, ormai a quanto pare prossimo alla scadenza. Da qui la necessità di avviare i lavori provocando però la reazione degli abitanti. Nella questione si stanno occupando diversi uffici, tra i quali anche quello dell'assessorato alle politiche sociali. Sabastano, del resto, aveva partecipato anche all'inaugurazione del campo a marzo scorso curando l'affidamento all'associazione Amici della Iola. L'idea è quella di chiedere alla Chiesa Evangelica della Riconciliazione di occuparsi del trasferimento del campo per non privare il quartiere della struttura. Gli uffici del Comune hanno inizialmente valutato l'idea di spostarla di pochi metri, restando nell'area del parcheggio di Piazza dei Filadelfi, ma sarebbero sorti problemi di autorizzazione e permessi che avrebbero allungato i tempi con il risultato che sarebbe potuto servire anche un anno per ultimare la pratica. Nelle ultime ore quindi sono emerse altre due ipotesi relative ad altrettante aree alle spalle del complesso di case popolari su via salvo d'acquisto, tra un terreno incolto ed un parco pubblico. L'amministrazione sarebbe intenzionata a scegliere la soluzione più facile che consenta di spostare in poche settimane il campo senza dover ricorrere ad espropi o particolari procedure burocratiche. I lavori consegnati a marzo scorso comunque avevano interessato, come dicevamo, diversi aspetti del campetto di Piazza dei Filadelfi, ad iniziare dalle misure della superficie di gioco allungate di 4 metri, il drenaggio, il ripristino del manto in terra abbattuta ed ancora la sostituzione della rete di recinzione e l'installazione di un nuovo cancello e due porte dal gioco per un costo di 15.000 euro, materiale che il comune intende quindi ora recuperare in gran parte per la nuova struttura.